Siamo l'organizzazione Rei della Strada di Slovenia, lavoriamo con la gente senza casa e siamo qua a Prato per giocare al football. Non solo dalla Slovenia ma anche da Francia, Spagna, oltre che dalla Sicilia e dalla Toscana. Più una formazione composta da richiedenti asilo, ospiti del centro di accoglienza nell'ex scuola Santa Caterina. Sono le squadre che hanno partecipato alla 27esima edizione del trofeo Aurora International, un appuntamento ormai tradizionale che mira l'integrazione fra sport e disagio psichico. Quest'anno abbiamo una squadra di migranti che anche loro vivono una follia, quindi allargare un po' il concetto di follia e non fare stretto. Infatti io passerei anche la parola da salute mentale a benessere mentale. E quando si gioca, si sta insieme e si fanno delle cose belle, che fanno sorridere, molto probabilmente anche certi problemi si attutiscono. Le partite del torneo sono state giocate al campo sportivo del Coiano Santa Lucia, dove cross, dribbling, parate e tanti gol hanno creato un clima di festa e grande divertimento. Lo sport riapre, riapre in qualche maniera anche la capacità fisica e quindi anche la capacità mentale. C'è molti dei nostri ragazzi che ci stanno frequentando da anni, per esempio hanno trovato un lavoro, hanno trovato una sistemazione sociale. Quindi capito, il fatto che lo sport sembra una cosa di poco conto, questo non è assolutamente vero. Il coinvolgimento dei familiari e l'impegno dei volontari sono i tratti distintivi della Polisportiva Aurora, un'associazione nata quasi 30 anni fa per sostenere e accompagnare attraverso l'attività sportiva le persone con disagio psichico. Noi predichiamo da tempo il fare assieme, altrimenti le persone rimangono sole, il paziente rimane solo, la famiglia rimane sola e i servizi sono in difficoltà, i servizi di salute mentale a affrontare questa cosa. Quindi l'importanza dell'associazionismo, l'importanza di avere sul territorio varie associazioni che lavorano insieme. Per la cronaca, la squadra All Star, composta da richiedenti asilo, ha vinto il torneo battendo 5-0 la delegazione francese. Grazie al sportivo Aurora, mi piace giocare per l'equipo di Prato, non è problema, mi piace, grazie.